Il vicario episcopale della Carità e della Missione, Monsignor Antonio Allori, ha pensato, questo qualche mese fa, di fare una serie di incontri a livello diocesano in modo tale che in due anni a gruppi di parrocchie si possano incontrare tutte le parrocchie della diocesi e questo per conoscersi meglio, per vedere come le caritas parrocchiali sono animate e quindi anche le associazioni caritative, in modo tale che si possa avere una rete concreta, una rete sulla quale far di conto e quindi fare un po' il bilancio di quelle che sono le risorse a livello parrocchiale, in modo tale che sempre di più la caritas sia una realtà a livello diocesano e non solamente gli uffici di via Santa Lò, la caritas quindi proprio come realtà ecclesiale di tutta la chiesa diocesana.